poi c'è un altro aspetto che quello di difesa legale noi nei mesi scorsi avevamo dato sempre delle diffide prendete quelle diffide fatele vostre fatele fatto in modo che con quella di fida rimangano agli altri ma adesso aggiungiamo dei pezzi il primo pezzo è quello per cui siccome è scritto nei loro documenti nei loro bugiardini nei loro manualetti del cavolo è scritto che ci vuole la prescrizione medica noi chiediamo ad un medico di scriverci e di prescriverci il vaccino quindi chi volesse o chi dovesse chi fosse nella condizione di fatto obbligata di dover fare questo questo vaccino questo siero ok si deve far mettere per iscritto dal medico di famiglia che ci vuole perché ci vuole la prescrizione medica e loro si va quindi con quella prescrizione medica vediamo se i medici si assumono la responsabilità adesso il medico di famiglia si assume la responsabilità dopodiché se quel documento se quel certificato se quella ricetta medica viene data quella ce la conserviamo perché non si sa mai dovesse succedere qualche cosa io ti faccio causa perché tu sei medico di famiglia mio e dovresti sapere quelle che sono eventualmente le mie debolezze punto primo punto secondo stiamo predisponendo una lettera con la quale si va al centro vaccinale per chi volesse farlo io io ve lo dico io continuerò a questo punto nella mia battaglia e dopo vi spiegherò perché ma chi volesse farlo va con una lettera che stiamo predisponendo con i nostri legali e questa lettera prevede che il soggetto vaccinatore prende atto del fatto che noi siamo lì in quanto obbligati tra virgolette siamo obbligati dalla legge quindi noi non diamo alcun consenso perché noi non vogliamo non siamo lì perché lo vogliamo anzi proprio perché abbiamo visto quello che ci c'è scritto su quel consenso informato noi di nostra spontanea volontà non vogliamo nella maniera più assoluta regalare malleve o decreazioni di responsabilità o scudi a nessuno ok quindi mi dispiace per loro ma il soggetto che va a vaccinare prende atto attraverso la nostra lettera che mandiamo per conoscenza via pec anche alla autorità sanitaria locale prende atto del fatto che noi siamo obbligati e quindi se vogliono compiere l'obbligatorietà che per me è un trattamento sanitario obbligatorio ok e non obbligatoria vaccinale vera e propria prendono atto della nostra situazione che siamo venuti lì per effetto di una norma ma noi non firmiamo nulla non diamo nessun consenso non fermiamo la minima carta loro invece devono firmare la nostra in cui diciamo che noi tranquillamente ci possiamo sottoporre chi lo volesse fare ok ci sottoporiamo ad un obbligo di legge ma non firmiamo nulla grazie a tutti